signori buongiorno e buona domenica oggi a pranzo linguine al gambero rosso guardate qua che be gamberi primo passaggio quindi pulire i gamberi e separare la polpa dalle teste che adesso andremo ad utilizzare intanto abbiamo condito con olio la polpa del gambero abbiamo coperto con pellicola e lasceremo in frigo per 30 minuti a marinare spostiamoci quindi in padella andiamo a soffriggere un trito di prezzemolo e aglio e aggiungiamoci anche una puntina di peperoncino abbiamo aggiunto anche una buccia grattugiata di un limone biologico e adesso aggiungiamo le teste dei gamberi lasciamole quindi rosolare che circa cinque minuti trascorsi cinque minuti andiamo a sfumare con del vino bianco proseguiamo quindi la cottura fin quando il vino non sarà completamente evaporato andiamo quindi a frullare le teste di gambero abbiamo aggiunto giusto un filo d'olio nel frattempo abbiamo anche calato le nostre linguine di graniano e pastificio d'arragona una volta frullate le teste dei gamberi le andiamo a setacciare per ben due volte in modo tale che non rimangono i residui dei gusci delle teste la seconda volta andiamo a filtrare direttamente nella padella abbiamo poi aggiunto al nostro estratto di testo di gambero un mestolo di acqua di cottura abbiamo aggiunto i gamberi marinati e adesso andremo a scolare la pasta grazie a tutti